Apriamo un'altra bustina di Super Calciatori Panini 2023-2024 con 42 figurine di cui idei speciali. Vediamo cosa ci dà questo pacchetto. Abbiamo Lucman Elite, poi abbiamo Barella Elite, Scudetto del Napoli, Scudetto del Lecce, Hernandez Elite del Milan, ci sono due Scudetti, la nuova firma della Lazio, quattro Scudetti, la nuova firma della Salernitana, due Scudetti, abbiamo la squadra della Fiorentina, tre giocatori, altri tre giocatori, i Rimini e i Sestri Levante, Spezia, Pergolese e Propatria, tre giocatori, altri tre giocatori, Cavraschelia del Napoli, Simone Perilli del Verona, Isaac del Verona, Antonino Gallo del Lecce, Martin dell'Atalanta, Francesco Caputo dell'Empoli, Berkan del Genova, Gaetano del Cagliari, Roberto Pereira dell'Udinese, Giuseppe Pezzella dell'Empoli, Adli del Milan, Carlos dell'Inter, Rick della Roma, Alessandro Buongiorno del Torino, Cristian del Sassuolo, Giorgios del Monza, Pedro della Lazio, Jacopo Fazzini dell'Empoli, Rafael Toloi dell'Atalanta, Davi dell'Inter, Alexis Blin del Lecce, Amir del Napoli, Matteo della Lazio, Matteo della Lazio, e Nedim del Sassuolo. Vi invito sempre ad iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdere altri video. Al prossimo spacchettamento e iscrivetevi al canale. Alla prossima!